Le cose con un attimo di anticipo, non sempre questa è una virtù, alle volte una fregatura, poi si fermano, analizzano e alle volte dicono adesso basta. Probabilmente questo è il momento per dire adesso basta. Dunque manifestazioni in più di 200 piazze italiane. Quelle che state vedendo sono le immagini della protesta di Milano, dove c'è stato tutto esaurito e tanti voti noti della cultura e dello spettacolo. Poi Napoli con un lungo corteo, Bari e Palermo con slogan e striscioni diversi, ma aderendo alla stessa iniziativa a difesa della dignità delle donne. Piazze e gremite anche a Genova, Trieste, Cagliari e Torino. Migliaia di persone hanno manifestato anche l'estero da Tokyo a Barcellona, da Washington a Malmo. Queste le immagini che arrivano da Parigi e quelle dei manifestanti di Bruxelles.